Il mondo del ciclismo si può racchiudere in tre sole parole, cuore, testa, gambe. Le stesse tre parole scelte dal presidente del veloce club Bassano 1892, Massimo Fantin, per sintetizzare il fascino di una classicissima, la Bassano-Monte Grappa, giunta quest'anno alla sua 72esima edizione. 107 chilometri complessivi, 10 giri dell'ormai tradizionale circuito cittadino e poi l'ascesa al Monte Sacro alla Patria, con arrivo previsto per le 13, sotto lo stesso striscione che pochi mesi fa ha assegnato la vittoria di tappa del Giro d'Italia a Nairo Quintana. Alla partenza domenica mattina alle 10 da Piazza Libertà, tante giovani promesse delle due ruote, pronte a imitare le gesta dei grandi del ciclismo, che hanno scritto il proprio nome nell'albo d'oro di questa classicissima Under 23, da Bartali a Gotti, da Gilberto Simoni e Damiano Cunego, fino a quel Fabio Aru, assoluto protagonista quest'anno della Corsa Rosa. Novità assoluta di questo 2014, la Corsa è in diretta. Sarà infatti possibile seguire passo passo la gara direttamente sui social network.